Da una parte le imprese in difficoltà a causa della pandemia, dall'altra le enormi quantità di denaro che la mafia punta a riciclare soprattutto nelle regioni del nord. Nei momenti di crisi le organizzazioni criminali fanno affari perché diventa più facile mettere le mani sulle attività a prezzi vantaggiosi. Al lavoro gli uomini della direzione investigativa antimafia. Stiamo facendo sotto la direzione della prefettura un esame su tutti i passaggi di proprietà nelle attività commerciali, chiaramente in forte sinergia con le forze di polizia, quindi con la Guardia di Finanza, con l'Arma dei Carabinieri, con la Polizia di Stato, per cercare di intercettare il prima possibile i passaggi più sospetti. La criminalità organizzata, soprattutto legata all'andrangheta, investe ancora nella ristorazione, nell'edilizia, nelle costruzioni, dice la relazione della DIA sul primo semestre 2020. E quando manca liquidità aumenta l'usura, un reato sempre poco denunciato per timore, per vergogna. Noi invece continuiamo a dire a queste persone di non avere nessun timore a rivolgersi all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria per denunciare questo fenomeno. Gli appetiti delle mafie, ora anche sulle forniture sanitarie, mascherine, gel disinfettanti, il settore delle pulizie. In Lombardia, nei primi sei mesi dell'anno scorso, i prefetti hanno notificato 33 interdittive per prevenire infiltrazioni nell'economia legale e negli appalti pubblici.